Associazione per delinquere finalizzata alle truffe e danni dello Stato con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'affermazione sul territorio dell'associazione mafiosa Santa Paolo Ercolano. L'accusa che ha portato nell'ambito dell'operazione lockdown la Polizia di Stato a eseguire misure cautelarie emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 10 soggetti, 5 dei quali tradotti in carcere e 5 sottoposti cumulativamente alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché all'obbligo di dimora nel comune in cui abitano. Sono destinatari della custodia cautelare Paolo Marangoni, Alessandro Mirabella, Andrea Pappalardo, Michele Adolfo Valerio Pilato e Gabriele Santa Paola, mentre sarebbero sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria Angelo Alberto Casisi, Paolo D'Angelo, Concetto Massimino, Paolo Monaco e Claudio Nicotra. In quanto gravemente indiziati, con differenti profili di responsabilità, dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all'indebita percezione di erogazione in danno dello Stato e ai delitti di falso e scrittura privata, falso ideologico in atti pubblici, nonché altri delitti contro la fede pubblica. Il provvedimento restrittivo giunge al termine di una complessa e articolata attività investigativa condotta tra il marzo del 2021 e il novembre dello stesso anno, che ha consentito di acquisire gli elementi di prova a carico di un sodalizio criminale, dedito, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP alla Commissione di numerosi delitti di falso e di indebita percezione di contributi pubblici consistenti in finanziamenti di vario genere erogati da istituti bancari ed garantiti dello Stato. Tali finanziamenti venivano erogati sulla base di una documentazione falsa e presentata da soggetti che non avevano i presupposti di legge. Secondo l'accusa accolta dal GIP, al vertice dell'associazione criminale, vi sarebbero il funzionario di un noto istituto di credito catanese, Alessandro Mirabella, e il direttore generale della Cofisam Consorzio Fidi Andrea Pappalardo, a capo di un'associazione imperniata su un preciso e berrodato modus operandi. Gli indagati, quindi, avrebbero assicurato ai beneficiari compiacenti l'accesso fraudolento ai predetti finanziamenti, istituendo nella relativa pratica sin dalla predisposizione della falsa documentazione reddituale ai fini dell'indebita erogazione del contributo. In particolare, il direttore generale della Cofisam Pappalardo avrebbe convogliato le stanze prodotte dai vari professionisti verso dirigenti di istituto di credito, i quali a loro volta avrebbero assegnato tali pratiche affidati funzionali della banca che deliberavano positivamente. Gli elementi acquisiti inoltre durante l'attività di indagine hanno permesso di rilevare numerose difformità con riguardo alla documentazione inerente a almeno 13 istanze di contributi garantiti, così determinando l'indebita erogazione di finanziamenti garantiti per la somma complessiva di 380.000 euro, per il quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo in quanto profitto dell'illecita attività posta in essere. Sorpreso dai carabinieri a spacciare droga, scappa e semina la marijuana e strada. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania hanno arrestato un diciassettenne catanese nell'area circostante al Castello Orsino, dove avrebbero sorpreso il giovane fermo nella piazza Federico di Svevia e colpiti dal fatto che gli si avvicinassero continuamente diversi giovani hanno deciso di controllarlo. Allora arrivo il diciassettenne e li ha spintonati e al fine di illudere il controllo si è dato alla fuga. A tal punto è iniziato un inseguimento per le vie limitrofe alla piazza. Durante il tragitto il giovane, soddisfatto della marijuana che aveva in tasca, si trattava di 110 grammi, disse Milandola lungo la strada e raccolta da uno dei due carabinieri. L'altro, in sella allo scooter, ha proseguito l'inseguimento del fuggitivo che intanto si era nascosto all'interno di un salone di barbiere in zona Fortino. Vano è stato il tentativo del giovane di occultarsi fingendosi uno dei tanti clienti. Il pusher così è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto e previsto l'affidamento a una comunità. Frode all'Unione Europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli. Si è conclusa un'articolata attività di indagine operata dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina nei confronti di un'azienda agricola operante nel territorio di Tortorici, risultata beneficiaria senza legittimo titolo di cospicui finanziamenti comunitari ammontanti a oltre 160 mila euro. Le indagini condotte dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziale di Messina e coordinate dalla Procura Europea di Palermo hanno consentito di smascherare l'insidiosa truffa posta in essere da responsabili di una società semplice in pregiudizio del FEAGA, Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, per le campagne dal 2018 al 2020. I pagamenti della politica agricola comune per la cronaca interamente finanziati dall'Unione Europea sono finalizzati a tutelare il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole in modo da incrementare le produzioni, aumentandone la qualità, la sostenibilità e la competitività. Per accedere a questi benefici l'imprenditore agricolo che chiede di essere ammesso a regime di pagamento unico dei contributi, FEAGA, deve ovviamente possedere alcuni fondamentali requisiti, tra cui la disponibilità di un'adeguata superficie coltivabile o destinata al pascolo. Le investigazioni di contro restituivano una realtà completamente difforme e hanno portato così alla segnalazione all'autorità giudiziaria per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre ai due legali rappresentanti della società agricola tortoriciana, anche altri quattro soggetti legati a due centri di assistenza agricola che risultavano aver curato la predisposizione delle domande uniche di pagamento. Più in particolare, dall'esito delle indagini emergeva come se fossero stati utilizzati fittizi contratti di affitti di terreno, ovvero attestato il possesso di particelle catastali in realtà di proprietà di terze persone, completamente all'oscuro del sistema di frode. In tal senso emergeva come il gruppo investigativo fosse giunto persino a dichiarare la disponibilità di terreni di proprietà dell'ISMEA, l'ente pubblico nazionale con sede a Roma, incaricato peraltro della formazione del ricambio generazionale in agricoltura. Diventano definitivi dieci piani per l'assetto idrogeologico che coinvolgono complessivamente 12 comuni siciliani. Altri quattro invece risulterebbero adottati e potrebbero diventare pienamente operativi dopo 30 giorni se le amministrazioni, entro questo limite di tempo, non apporteranno eventuali osservazioni. Sono questi i risultati dell'ultima seduta della conferenza operativa dell'autorità di Baccino del distretto ideografico della Sicilia, organismo preposto, fra le altre funzioni, a esprimere pareri necessarie a rendere esecutivi i PAI. Con l'approvazione dei piani, dunque, la regione dota il territorio di un importante strumento di pianificazione dei diversi bacini. Dei dieci piani approvati, due ricadono nell'Agrigentino, nei comuni di Licata e Montevago, uno nel Catanese, riguarda Mascaluscia e Nicolosi, quattro nel Palermitano, Campo Felice di Fitalia, Conte Centellina e Vicari. E il PAI coinvolge anche il capoluogo, Comorreale. Due piani definitivi nel Trapanese, ad Alcamo e Pantelleria, uno infine nel Siracusano, per il comune di Cassaro. Per quanto riguarda invece quattro piano adottati, riguarderebbero nel Ragusano il capoluogo e Ispica, a Cefaladiana nel Palermitano, Misiliscemi e Paceco nel Trapanese. Il provvedimento temuto alla fine è arrivato. Si esprime così il sindaco Francesco Italia sulla vicenda della sede Avis a Siracusa, che nelle prossime ore dovrà lasciare la sua sede perché il demanio statale, senza avere manifestato apertamente la ragione, ha deciso di non rinnovare la locazione, lasciando così la città priva di un importante presidio sanitario. L'appello lanciato dal presidente Fortuna, attraverso la sua lettera aperta, non può finire nel vuoto e merita l'impegno da parte di tutti. Le conseguenze di questa decisione, continua il primo cittadino, rischiano di essere gravi perché ricadranno sugli ospedali e dunque su persone fragili, che certo non possono subire gli effetti di una burocrazia miope e lontana dai bisogni dei malati. Ogni estate arrivano puntuali gli appelli dell'Avis, segno che le banche del sangue in una terra che non riesce ad allineare le proprie donazioni con quelle di regioni virtuose, sono costantemente in sofferenza. La chiusura della principale attrezzata sede Avis della provincia, continua il sindaco, rischia di avere conseguenze devastanti per il sistema sanitario provinciale, con effetti di lungo periodo che non saranno evitati con il semplice reperimento di una nuova sede. Senza voler alimentare allarmismi, conclude il sindaco Francesco Italia, ritengo che la situazione richieda un immediato intervento. Ieri pomeriggio presso l'Istituto Alessandro Volta di Floridia si è tenuta un'assemblea straordinaria a cui hanno partecipato il sindaco Marco Cariani, l'assessore Serena Spada, il personale ATA, le organizzazioni sindacali, i docenti e i genitori degli alunni. Un incontro necessario per far fronte al rischio di dimensionamento dell'anno scolastico 2024-2025 dello storico istituto. La necessaria sensibilizzazione sulla questione e l'obiettivo di continuare a garantire la comunità floridiana delle scuole con le migliori condizioni possibili di apprendimento, ha affermato il sindaco di Floridia Marco Cariani. Diciamo che quella del dimensionamento è una vicenda che sta un po' investendo tutto il paese, tutta la nazione. È stata votata nell'assemblea regionale siciliana, sul proposto anche dell'onorevole Spada, una legge voto che vada un attimo a rivedere questa situazione per evitare che città o comunque quartieri vulnerabili di alcune città dove insistono dei presidi di realità, che sono le scuole, possano risentire di questa storia del dimensionamento. È un po' quello che si paventa purtroppo anche per l'Istituto Volta di Floridia. La nostra sarà una posizione chiara, cercheremo su fino a quando sarà possibile con le unghie e con i denti di preservare quella che è l'autonomia, ma per una questione di dignità dell'Istituto che ha formato tantissime generazioni, tantissimi giovani, tantissimi ragazzi e ragazze che poi hanno esportato la cultura che qui hanno acquisito nel resto d'Italia e non soltanto. Quindi sarebbe un peccato vanificare tutti gli sforzi che sono stati fatti dal personale docente che si è susseguito. Noi faremo la nostra parte, dal punto di vista locale, in qualità di sindaco, io farò la mia, chiaramente a livello regionale l'On. Spada farà la sua. L'auspicio è che l'Istituto Volta possa rimanere autonomo perché simbolo e punto di riferimento dei cittadini floridiani. La necessità di prendere una posizione forte per tutelare quello che rappresenta un presidio sociale di istruzione per Floridia, in grado di formare e aver formato storicamente molte generazioni, ha dichiarato l'On. Tiziano Spada. Un rischio di dimensionamento che potrebbe creare disagio ai tantissimi genitori e alunni residenti nella zona è un senso di appartenenza da salvaguardare, ha sottolineato la rappresentante d'Istituto Rita Trigila. Io lotterò per l'autonomia del Volta insieme a tutti gli altri genitori perché il Volta è un'istituzione da tante generazioni, ha formato anche la mia generazione perché sono stata alunna qui, ho fatto le mie scuole elementari qui e adesso come istituto comprensivo ho già formato mia figlia la maggiore ed è al primo liceo quest'anno, ha fatto primaria e secondaria qui e adesso la piccola alla primaria e quindi lotteremo per l'autonomia del Volta perché non deve morire e non può morire perché è la scuola per eccellenza a Floridia. Lavorare in sinergia per scongiurare il rischio di dimensionamento e per evitare di mettere in crisi la regione siciliana e in particolare la provincia di Siracusa. Grazie a tutti! Grazie.